Un esposto a tutte le procure d'Italia presentato dal Codacons l'accertamento che in provincia di Belluno i rincari di benzina e gasolio superano percentualmente di gran lunga quelli rilevati nel resto del Veneto. C'è un fascicolo sul tavolo del capo della procura di Belluno Paolo Luca sul caro carburanti, per ora senza ipotesi di reato né di indagati. I controlli eseguiti di istituto dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza sono alle battute iniziali. Ci verrà almeno una settimana per avere un quadro completo della situazione. Dalla fine di gennaio all'11 marzo, fonte Mise elaborata dal sole 24 ore, in provincia di Belluno il balzo alla pompa del prezzo della benzina è stato superiore al 18% per il gasolio del 25%. Rincari ingiustificati al limite della speculazione, commenta preoccupato il presidente della regione Luca Zaia. Il costo delle materie prime e tutto quello che sta accadendo sui mercati sta letteralmente mettendo in ginocchio la nostra economia. Di fatto è un'economia di guerra senza le bombe. Le fiamme gialle di Belluno stanno monitorando la situazione per capire se alla base degli aumenti inaccettabili vi siano scelte di mercato delle compagnie petrolifere nel mirino di un'azione congiunta dell'antitrust che sta verificando l'esistenza di violazione della concorrenza nella fissazione dei prezzi di super e gasolio. Quest'ultimo è ai record storici con incrementi che nell'ultima settimana hanno superato il 40%. Se scopro che c'è speculazione sui prezzi dell'energia piuttosto che delle granaglie è giusto che qualcuno intervenga.